Si tenta il tutto per tutto per salvare il carcere di Sala Consilina. Nei giorni scorsi una delegazione del Movimento 5 Stelle, composta dal senatore Francesco Castiello e dal deputato Cosimo Adelizzi, ha accompagnato presso il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi, il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, per approfondire la questione della riapertura della casa circondariale, chiusa senza il pur necessario contraddittorio con l'amministrazione comunale e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Durante l'incontro il primo cittadino ha chiesto al rappresentante di governo quantomeno di sospendere l'attuale conferenza dei servizi, riavviata dopo le decisioni del Consiglio di Stato, ma di fatto destinata solo a sopprimere il carcere, correggendo i vizi formali del decreto emanato a suo tempo. Il sindaco Cavallone ha scelto dunque una strategia più soft, non caricare a testa bassa sulla riapertura, ma ottenere intanto la fine della procedura in corso, evitando un nuovo e più definitivo decreto di soppressione, ma lasciando il penitenziario aperto, almeno sulla carta, per poi riavviare la discussione su un ritorno vero e proprio all'attività del carcere. In questo contesto è stata annunciata la disponibilità del Comune di farsi carico degli oneri di adeguamento della struttura e si è fatto leva sulle contraddizioni e le conseguenze della chiusura. Ringrazio i parlamentari Castiello e Adelizzi, ha detto il primo cittadino, che al di là del colore politico si sono spesi per questa causa e hanno aperto un nuovo canale per il dialogo. In particolare il senatore Castiello ha evidenziato come Sala Consilina sia stata lasciata senza presidi di giustizia in balia delle spinte della criminalità che arrivano da Campania, Basilicata e Calabria. Ora si spera dunque nella riapertura della partita. Il sottosegretario ha fatto sapere che avrebbe discusso della cosa con il DAP e che avrebbe avviato una veloce istruttoria sulla questione.